La storia è semplice perché mio padre era figlio, erano sette fratelli di Fabri, tutti i Fabri. Quando venivo da scuola andavo in bottega perché avevo bisogno di una mano e mi sono appassionato. Diciamo che noi altri abbiamo il cromosomico dentro il ferro perché le generazioni passate nostre contano parecchi Fabri nel loro. Esatto, il mio modo di lavorare è primitivo, come nel medioevo, vedo un albero e mi metto subito senza fare disegni, a volte con un gesto ho fatto uno schizzo per terra così solo per richiamo, però ce l'ho in testa. Mi diverto anche sudando forte perché quando cade la gozza dal naso è allora che si lavora meglio. Vivere qui effettivamente può sembrare un po' riduttivo per qualcuno che vuole fare arte perché vivi in una realtà piccolissima in mezzo ai boschi e ai prati. Da quel punto di vista Paolo Valor ci ha insegnato sempre a tenere i piedi conficcati nella terra d'origine. Sembra una stupidata però forse è fondamentale, per noi altri è stato fondamentale. Per te tenere i piedi nell'orto, per me andare nel bosco a vedere gli animali. La terra, vivere, vivere, nascere nella terra, poi la passione sempre dell'orto, vedevo sempre qualche pianta particolare e poi dicevo madonna se potessi fare l'imper che bello che sarò. Quando Giovanni Testori ha fatto visita alla mia bottega e ha visto queste pere, queste mele, mi ha detto tu ci hanno fatto una cosa grande. Il giorno dopo mi dà la possibilità di fare questa mostra a Milano, a Sant'Ambrogio. Un giorno arriva Gianni Faustini, un giornalista, è stato anche presidente dei giornalisti d'Italia, parlando, bevendo un biccerote, bevendo tutto che ho detto, ormai è di barra Gianni. E arriva dalla galleria che vuole che fanno l'olivo per Bill Gates. Non sai mica che l'è il tuo Bill Gates. Scatta ai piedi e mi dice come, 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 che hai detto, diciamo. Sì, guarda, prendi qui, ho aperto la busta, è rimasta, stia, ma non è possibile, non è possibile. Guarda, andiamo in Grecia, ti porto in Puglia, ti porto dappertutto, ma ti do, vengo anch'io a aiutarti, ma devi farlo questo, perché è importantissimo. L'olivo mi piace perché è molto, c'è molta vita dentro, no? C'è questa sofferenza, questa fatica e queste contorsioni. Lavorando come una volta, utilizzando addirittura i pezzi, gli attrezzi di una volta, il nostro lavoro è lentissimo, esattamente come secoli fa. Quindi per realizzare un grande albero possiamo metterci anche due anni di tempo. È una necessità. Jacques Lerkel era venuto a far visita in bottega, questo critico, direttore del museo Picasso, direttore del museo, questo critico, ha capito subito che c'era un collegamento col passato a oggi, perché io mi sono, ho ricostruito un po' questo percorso, no? e faccio lo stesso lavoro che facevano nel mio tempo. E Jean-Claire l'ha capito al volo, guardava quelle zappe. Ma queste zappe lo facevano in quel modo? Sì. Tu sei sanguigno, vai direttamente, io invece sono più cervellotico e ragiono sul pezzo e costruisco delle armature in pratica. Esatto. Dei blocchi che si sovrappongono. Quando ero bambino mi ricordo che appena potevo scendevo in officina e stavo con mio padre, o meglio, stavo in officina a giocare. Mi ricordo delle gran scottature perché finivo sempre col raccogliere i pezzi roventi invece che quelli freddi. Di sicuro so che la prima cosa che ho realizzato è stato un uccellino che non era più grande di così. Ed è stata una specie di magia perché lo avevo progettato esattamente come progetto tutte le altre cose. Ma è uscito fuori una cosa che era magica. Da quel momento lì ho detto, devo continuare a fare gli animali. Uno per staccarmi da mio padre, e due perché mi sono sempre piaciuti. Sono vissuto di documentari e di libri di animali fin da piccolissimi. Prima di tutto mi faccio dei disegni che sono dei pro memoria. Non sono dei bei disegni ma a me servono per realizzare un modello. In questo caso è questo modello qui, di plastilina. Che mi serve per realizzare poi tutti i cartamodelli per il taglio della lamiera. La parte del naso e della fronte, che è questa. Tutti questi pezzi qua dopo diventano il cartamodello. Con questi taglio la lamiera e la lamiera poi viene lavorata per costruire la prima testa di prova. Quest'anno per la galleria Salomon dovrò realizzare una mostra sulle fiabe di La Fontena. Me l'ha proposto Lorenza Salomon, ma appena me l'ha proposto io ci sono subito innamorato. Tirare fuori queste vecchie fiabe che mi permetteranno di realizzare una cosa alla quale già stavo pensando un sacco di tempo. Io pensavo di realizzare degli animali con degli altri animali, quasi creare dei totem. Io potrò fare il leone con quel topolino, l'elefante con il topolino, che sono due fiabe di La Fontena, oppure la tartaruga con le anatre. È una sfida bellissima e mi capita nell'anno dell'Expo. La nostra fortuna, forse, è che noi riusciamo anche a realizzare delle richieste particolari di alcuni comitenti. Le cose anche strane, con misure particolari, che stanno in spazi difficili. Avere sempre adattare il nostro lavoro anche con certe esigenze del comitente. sono fortunato perché perlomeno l'IVAM prosegue il mio lavoro, anche se nel lavoro in estensione. Però litighiamo. Sì. Però litighiamo. Cioè sei contento, però litighiamo. Oggigiorno la storia dell'università di questo e di quello. La presa larga un'altra volta. Grazie. 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 Grazie.